Allora, che ti vergogna? Alle 5 mattina giocavo a fare lavoro o non so che cosa, calcio qua sopra nel letto, che sto dormendo. Mi svegliava per quella. O poi un'altra cosa, sei venuto sopra di me a fare il massaggio lì, che sto dormendo. Allora, se tu non riesci più a dormire, che c'è la coglietta qua sopra, nella tua lenzuola, guarda la mamma, guarda subito, guarda, ecco, che ti vergogna. Ero così stanca e voglio dormire? No. Eh, cosa vuoi? Che cosa c'è? Mamma mia, guarda che domani ti chiudo dentro nel garage, dormi domani sotto nel garage. Guardami, guarda la mamma, guarda, guarda qui, guarda la mamma. Sì, è un po' di rispetto, no? Che sto dormendo. Un po' di rispetto. Non hai rispetto per niente. Mamma mia. Se vuoi uscire, ieri ti ho lasciato due volte fuori, no. Perché è freddo, c'è il ghiaccio, c'è il neve, entra subito. E poi sei nervoso adesso? Ma va, Flochi. Adesso ti lascio fuori, bidrai. Ti lascio. Guarda la mamma, guarda, guardami. Non girare dall'altra parte, guarda la mamma, subito. Flochi, guarda la mamma. Niente, non vuoi proprio guardare. Ecco. Eh, adesso hai sonno? Eh? Hai sonno adesso? Mamma mia. Eh? Questo gattino che lo do. Eh? Eh? Eh?